Fiduciario di Matera. La condotta è nata come idea esattamente un anno fa, quando a maggio del 2009 due disgraziati che sono qua, Giacinto e Luigi, mi hanno contattato e mi hanno detto Gianni guarda vorremmo riportare Slow Food a Matera, io sono stato per 13 anni il responsabile del WWF della mia città e quindi dici perché non ci dai una mano per riportare questa realtà nella nostra città importante. Io ho detto di sì, non sapevo a cosa stessi andando incontro, fra l'altro all'inizio per fare i soci era difficile, io come spiegavo per avvicinare la gente dicevo, ah sai il Slow Food, e che cos'è Slow Food? La Slow Food è il WWF del cibo. Giustamente mi veniva naturale, era una cosa che ritenevo anche semplice da capire. Devo dire a distanza di un anno, la condotta è nata poi ufficialmente a ottobre, oggi speravo di festeggiare i cento soci ad Abano, non ce l'abbiamo fatta, siamo 95 Presidente. Quindi, anzi, se qualcuno di voi deve rinnovare la testa può farlo anche da noi, abbiamo anche le veline di là. E dicevo, oggi dopo un anno posso dire che ho cambiato il modo di descrivere il tutto perché adesso dico che il WWF è lo Slow Food degli animali, quindi ho invertito ovviamente il ragionamento. Adesso vi volevo parlare di due progetti che noi stiamo portando avanti e che credo calzino perfettamente con quello che ho sentito in questi giorni. Due progetti che sembrano agli antipodi ma che poi effettivamente trovano unità in quella grande idea che Slow Food dà della vita, del nostro futuro. Uno è qui, macchina non mette mano. Noi stiamo lavorando proprio per riportare la manualità, l'artigianalità, il sapere, il saper fare fra i giovani e ovviamente attraverso i vecchi. Quindi partendo dal pane, dalla pasta, come si fa il pane, come si fa la pasta, ovviamente fatti a mano. L'altro invece, che è esattamente l'opposto e che va incontro a quello che diceva Silvio, quello della comunicazione, noi stiamo organizzando questo evento che si chiama Face Food, la rete che cucina, che si terrà a Matera proprio la prossima settimana. Ed è un raduno di Food & Wine Blogger che si terrà nella nostra città perché riteniamo che per comunicare all'esterno, per trasmettere all'esterno, dobbiamo anche utilizzare quei mezzi perché più siamo conosciuti, ovviamente è più è facile avvicinare le persone. Lo faremo con questa iniziativa, magari ne verranno pochi, abbiamo 10-12 prenotazioni, però ognuno di questi Food Blogger è letto quotidianamente da 400-500 persone, quindi immaginate che grande moltiplicatore che noi riusciremo a mettere in moto. Adesso un'altra cosa, io ci tengo a ribadirlo, lo dico al Presidente internazionale d'Italia, io non mi sento un fighetto. Lo voglio chiarire perché certe volte, sai, qui lo dice uno, lo dice l'altro, noi ci scherziamo sopra, è anche il caso di dire che noi non siamo dei fighetti. Magari mangiamo anche qualcosina, mangiamo bene, però non siamo assolutamente dei fighetti. L'ultima l'hanno fatto tutti, scusatemi, la fretta per stare nei sette minuti, si parla di destra, di sinistra, di centro, devo dire che un amico mi ha definito con un ortaggio, per dire il mio primo posizionamento politico, ha detto Gianni tu sei un ravanello, rosso fuori e bianco dentro, che è un po' il colore anche del PD, come lo immagino io, un po' comunista, un po' democristiano. Beh, io credo che per essere contro gli OGM, per essere contro il nucleare, per essere contro la privatizzazione dell'acqua, non si debba essere né di destra né di sinistra, bisogna essere semplicemente intelligenti. Credo che sia la cosa che ci accomuna a tutti. E l'ultima, è l'ultima, l'hanno fatto tutti, lo faccio anch'io, è un brano particolare che io cito, diciamo sempre, quasi sempre, certo non sono i mostri sacri della canzone italiana, è un brano degli After Hours. L'hanno cantato a Sanremo un paio di anni fa, sono stati bocciati dal televoto immediatamente, perché gli italiani, insomma, sanno capire subito i messaggi. Allora, il titolo della canzone, no, il titolo non lo dico, vi leggo. Adesso fa qualcosa che serva, che è anche per te, se il tuo paese è una merda. C'è una strada in mezzo al niente, piena e vuota della gente, e non porta fino a casa se non ci vai tu. Io voglio far qualcosa che serva, per quello ho scelto Slow Food. Grazie. Allora, diamo la parola a Silvia D'Ambra, del condotta di Ischia. Grazie.